Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, cote a tratti per traffico tra B1 con Planare Firenze Nord e B1 Variante verso Bologna, sempre verso Nord rallentamenti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud. Ci smostiamo in fipili rallentamenti per traffico tra Gello e Ponte d'Araove e Sponsacco in direzione di Firenze. Arriviamo al traffico urbano di Firenze in via Fantoni da domani 24 settembre al via operazione di demolizione di un edificio e di realizzazione di un marciapiede. Per 15 giorni sarà chiuso il tratto da via dello Stecuto a via Panciatichi. In seguito è previsto un restringimento di carreggiata, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Francoforte delle 18.10 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.40. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!